20 partecipanti, 20 persone che ci hanno seguito, non è poco? 3, 2, 1, foto! Grazie Gabriele, vengo subito! Avevo in mente questo concetto, dalla finestra si guarda quello che c'è fuori e da fuori si guarda quello che c'è dentro, al palazzo. Quando racconti fuori di cenere, noi nel nostro condominio l'attitudine la facciamo da soli, cadono tutti dalle nuove. Grazie telespettatori, anche per questa sera da Territorio 19 è tutto.